scusate la lunga pausa la lunga nostra assenza abbiamo avuto molti molti lavori da fare in questo periodo per il negozio i nuovi prototipi perché praticamente stiamo formando un'altra linea di canaline inerente alla prospezione inerente anche alla raccolta e comunque con delle canaline superleggere amatoriali diciamo perché quelle da raccolta già le abbiamo tutte quindi non sappiamo neanche cosa inventarci ormai è saturo e andremo avanti con una linea molto interessante che appunto riguarda l'argomento di oggi che sono le trappole per quale motivo gomma sì gomma no che tipo di trappole per quale motivo la lunghezza la larghezza eccetera eccetera oggi parliamo proprio argomento clou sono le trappole che sarebbe la cosa principale per una canalina quindi le domande c'erano allora c'erano arrivate parecchie domande alle domande principali erano proprio quali tipo di trappole servono e in che tipo di condizioni per quale tipologia di oro ed è una domanda che si fanno tutti anche anche gli esperti sono alla continua ricerca di rivoluzionare le trappole migliori per ottimizzare la raccolta di oro grande oro piccolo farina pepitazze per ogni per ogni contesto ogni fiume ogni tipologia di oro e di terreno sicuramente c'è una trappola che è più idonea che un'altra esatto la domanda principale che uno si deve fare qual è la trappola migliore no 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 le trappole migliori non esistono però fammi finire quello che la gente si chiede è qual è la trappola migliore e noi rispondiamo la trappola migliore è il fiume naturale è il sasso naturale è la no la trappola migliore non esiste la trappola migliore è semplicemente quella che noi andiamo a considerare a secondo del nostro tipo di lavoro quindi del flusso d'acqua che vogliamo adoperare che siamo abituati ad operare e quindi a volte lasciamo perdere quelle che sono le finezze sì esatto quindi la pendenza è il flusso d'acqua perché è tutto lì che una trappola lavora quindi se quella trappola che potrebbe essere interessante e lavora perfettamente al 12 per cento con un flusso d'acqua da 80 litri al minuto la mettiamo e cambiamo la trappola e ne mettiamo un'altra praticamente quel flusso e quella e quella pendenza non funzionano più daranno dei risultati più diversi differenti quindi c'è sempre da regolare a secondo del tipo di trappola che stiamo adoperando che c'è una cosa da dire che comunque più le trappole sono piccole e più ti devi lavare la canalina in fretta perché altrimenti si intasano più le trappole sono piccole più vanno bene per un determinato tipo di oro più le trappole sono grandi e più c'è bisogno di acqua per farle lavorare e più sono grandi e più ti trattengono la pezzatura grande quindi a secondo di dove noi stiamo andando dobbiamo scegliere che tipo di trappole adoperare per quel tipo di oro anche ad esempio se un terreno sabbioso come può essere il ticino c'è bisogno di un tipo di trappola che lavora praticamente processi in maniera molto facile diciamo così no tra virgolette se invece noi andiamo a lavorare del materiale sul sull'Evanson per esempio che è molto argilloso a quel punto ci serve una trappola che riesca a processare questo tipo di argilla perché se noi ci mettiamo le trappoline quelle lì semplici che non uccidono praticamente l'argilla scivola sopra si casa completamente la trappola esatto quindi c'è da vogliamo fare degli esempi pratici proprio canaline alla mano e trappole alla mano per far capire meglio di cosa stiamo parlando così facciamo vedere ok questa matrix praticamente questa è una matrix adesso questa qui per chi conosce ticino gold diggers il negozio parliamo di trappole si parliamo di trappole queste qui sono le trappole standard che vengono montate sulla matrix poi possono essere scelte altre tipologie di trappola ma adesso parliamo proprio di queste qui questa trappola qui è diciamo ma possiamo chiamare universale perché sono quelle di trappole a onda che le adoperano praticamente quasi tutti diciamo che questa tipologia di trappole qui in alluminio si trova solo in italia quindi in america se ne scordano che sono eccezionali hanno una pendenza e una grandezza secondo me è perfetta per quanto riguarda l'oro dell'elbo l'oro dell'orco e l'oro anche l'oro del segnara diciamo no faccio meglio vedere anche da vicino intanto queste trappole ad onda ad esempio sono anche per loro fine sono sia per loro fine perché naturalmente qual è il compito di queste trappole qui è condurre l'oro nel miner moss al di sotto esattamente queste trappole essendo avendo un salto non troppo alto neanche troppo basso vanno bene per pezzature medie piccole pepite e anche per loro molto fine che andrà a intrappolarsi nel miner moss si intrappolerà in una modalità ben precisa che sarebbe l'onda praticamente l'onda quando passa l'acqua fa come l'onda che si vede nel mare fa un giro così no crea un moto vorticoso questo moto vorticoso tende a intrappolare le parti più pesanti quindi l'oro all'interno della cava che c'è e poi quando va a incontrare il miner moss si incastra lì nel miner moss o scende addirittura giù nel miner moss e non scappa più e quindi il vortice è così se invece vogliamo andare a prendere le pepite per esempio sul segnara o piuttosto sullevasono dove vogliamo dove ci sono le pezzature leggermente più grosse possiamo girarla questa rete per questo noi la chiamiamo double face e serve appunto per andare a prendere la pepita che adesso facciamo vedere se abbiamo questa qua giriamo così e abbiamo cambiato la faccia della macchina ok queste queste qua trappole invece rigirate dalla parte opposta hanno proprio la particolarità e noi le chiamiamo a piramide a piramide perché sono abbastanza incise sì e quindi non vanno più a creare il vortice a onda come quelle di prima creano il vortice ai lati uno di qua e uno di là quando il pezzettino di oro si attraversa si incasta dentro perché ha due spinte maggiormente invece l'onda il pezzo grosso tende a farlo saltare qui invece tende a rientrare diciamo crea crea una vera depressione centrale dovuta dovuta al al circolo che crea questo tipo di trappole sia a destra che a sinistra e porta a tenere la pepita incastrata dentro quella esatto sopra ma all'interno della nicchia dove si crea praticamente un vuoto si crea un vuoto tramite due vortici laterali esatto abbiamo prediletto prediletto queste trappole proprio per il tipo di lavoro che fanno quindi possiamo utilizzarle sia per quanto riguarda le pepite fino a un grammo ci stanno tranquillamente attenzione nelle trappole quando nella canalina questi salti hanno del lavoro ulteriore quindi serve rallentare appunto il flusso di acqua che entra nella canalina non farla non fargli prendere troppo velocità e quindi automaticamente se il pezzo grosso grosso passa di qua si ferma ugualmente il fatto sta che bisogna sempre saperle adoperare alle canaline bisogna sempre capire quando una trappola sta funzionando e come farla funzionare lì è soltanto questione di esperienza quindi non è che possiamo stare a spiegare la percentuale della pendenza piuttosto che il flusso d'acqua perché sta è relativo insomma è questione del bisogna sapersi adattare alla situazione che si trova sul punto di scavo comunque queste trappole qui sono veramente diciamo va bene dappertutto tranne che comunque nelle pepitone grosse dove superano i due tre grammi dei pezzettoni quattro grammi cinque grammi lì si passa un altro tipo di canalina per esempio e queste per esempio sono state create appositamente per la pezzatura grossa e quindi sono ripetati cinque grammi si ferma di qua si potrebbe fermare ma se abbiamo un flusso d'acqua molto forte rischiamo di perdere che magari è rotonda non ce ne accorgiamo e ci scivola via quindi ogni pezzatura ha bisogno del suo della sua trappola e del sapere anche del cercatore non è che mette una canalina e funziona non c'è trappola migliore o trappola peggiore e nemmeno la channelina migliore e quella peggiore la migliore c'è perché i bottoncini li facciamo noi già ci stanno copiando anche in turchia quindi a parte questo queste non le copieranno sono costrette a comprare l'italia costo una barca di soldi e te lo assicuro ed è per questo motivo e tanto non gli spediscono perché le danno solo a noi hanno anche un prezzo più elevato delle altre perché stiamo parlando di silicone super resistente a proposito di silicone stiamo parlando di rete super resistente di canaline in acciaio o in alluminio quindi non andiamo a incontrare nessun tipo di ruggine abbiamo incontrare la semplicità nel montaggio abbiamo un miner mosco in politilene guardate la semplicità eh questo è piccolo di queste classe professione abbiamo un politilene praticamente a riccio il classico miner moss chiamato miner moss in realtà è un tappeto riccio non si chiama così però e quindi questo costa 80 euro capite per quale motivo cioè non si rompe più a parte questo sì stavamo parlando tanto questo lo uso come scaccia pensieri parliamo e quindi tornando al discorso delle trappole le canaline le nostre sono le migliori ma le trappole funzionano tutte diciamo anche il mille righe o il cento righe o il tappetino della macchina hanno la loro funzionalità il discorso è anche molto semplice noi andiamo a vedere tantissime canaline che hanno un tipo di tappeto piuttosto che un altro piuttosto che un altro a quattro tipi di tappete noi abbiamo quattro tipi di tappeto ma quei quattro tipi di tappeto non funzionano insieme ne possono funzionare uno e due perché hanno praticamente delle caratteristiche differenti che con lo stesso flusso d'acqua non non hanno lo stesso risultato quindi o prendiamo il flusso d'acqua e una trappola e la regoliamo per farla lavorare ma perché se ne mettiamo un'altra che è differente dobbiamo regolare la canalina in un altro modo quindi il fatto che ci sono dieci trappole dentro una canalina è una presa per il culo chiaro tondo perché non funziona sono specchietti per le allodole esattamente per gli inesperti esattamente quindi facciamo un altro ulteriore esempio quando qualcuno ad esempio non vuole fare produzione quindi non ha bisogno di una matrix o non ha bisogno di una water beetle noi parliamo delle nostre sluice box perché conosciamo le nostre quelle degli altri non le conosciamo siamo specializzati nelle nostre quando uno non ha bisogno di fare produzione quindi non deve lavare tantissimo materiale per estrarre tanto oro ma ad esempio deve farsi una prospezione ha bisogno di portarsi dietro poco materiale cosa può fare può fare due a due opzioni va in un posto dove sa che c'è oro di pezzatura grande prende una canalina che gli permette di lavare in poco tempo quello che avrebbe lavato con la battea magari in dieci minuti e quindi si prenderà la canalina con dei salti belli vigorosi sa che va in un posto su una punta ad esempio del ticino una punta dell'elvo dove ha bisogno di lavare delle sabbie setacciate in poco tempo può optare per una canalina come l'abbiamo qua a mini raptor e lì dietro l'abbiamo messa la mini raptor cicola un po' e vabbè che te ne prega lasciate cicolare vuoi mettere un po d'olio devo mettere un po di olio caos come una mini raptor questa qua ad esempio è la nuova creazione super leggera per chi vuole qualcosa da buttarsi nello zaino da prospettare per prospettare materiale fine si abbiamo fatto il test l'altro giorno per quanto riguarda la cattura dell'oro proprio prima di metterlo in commercio abbiamo fatto i video tu ce l'hai si si vede proprio che fa un lavoro ben specifico come si può vedere prima si riempie del materiale che stiamo andando a versare a poco a poco le trappole si vanno a pulire e fuoriesce l'oro come si può vedere qui questi tutti i puntini sono prima erano coperti adesso sono sono visibili insieme alla magnetica insieme alla magnetica che rimane addirittura più sopra catturando loro fine quello più grande rimane un po più scoperto perché non viene portato dentro dalla dall'onda dal dal punto di depressione ecco e quindi abbiamo valutato che è perfetta per la prospezione perché dopo che hai fatto la palettina che entra dentro viene a mostrare loro che stiamo catturando quindi in quel momento lì la prospezione l'abbiamo fatta perfetta abbiamo visto che c'è l'oro e che non viene nascosto dalla sabbia quindi possiamo vederlo lo tiriamo su con la pipetta svuotiamo la canalina abbiamo fatto la nostra prospezione esatto in quanto invece poi c'è quell'altra questa qui è questa è una prospetto praticamente un po' un po' universale diciamo che non ci sono più le trappole inerenti soltanto per loro fine ma c'è proprio una rampa di lancio quindi doveva a catturare quindi sia loro fine anche delle pezzature qui si ferma creando come si può vedere nel video adesso in questo video in questo video di test ho usato il il ciucciometro però in realtà in realtà per il ciucciometro è un po' piccolina perché spinge ma se noi andiamo con la palettina qui cominciamo a vedere che si ferma il nostro oro pulito qui si ferma la via e crea praticamente una montagnetta che io mi ricordo quando avevo fatto le prime uscite a Ticino avevo costruito una canalina con la via e si fermava proprio la prima montagnetta qua piena d'oro faceva come un triangolino e si fermava tutto qui quello che scappa da qui comunque che da prospezione si ferma qui e qui è comunque una pezzatura molto grossa e qui ancora più grossa quindi andiamo dal fine al medio al grosso con lo stesso tipo di trappola comunque non è che stiamo a cambiare perché se io mi mischio la rotonda con il salto con quell'altro a via eccetera eccetera funziona una non funzionano tutte qui funzionano tutte perché hanno le stesse caratteristiche quindi va a depositarsi un po più fine qua quella più grossa scappa qua quella più grossa ancora scappa ok però hanno tutte lo stesso la stessa tipologia lo stesso disegno e modalità di lavoro e quindi esatto il flusso il flusso che va a creare questa canalina i vortici che va a creare sono identici o di qua o di qua o di qua perché non sono mischiate esatto e questa qui è un'altra canalina fantastica che è è ancora un prototipo e adesso verrà fuori con tre disegni differenti e non vedo l'ora di farvela vedere ragazzi perché è uno spettacolo non vedo l'ora che esca anch'io perché è veramente bella veramente belli gli altri due tappetini questo è il più semplice è il più classico e una particolarità questa canalina qui è completamente unita in alluminio in alluminio la canalina è praticamente un pezzo unico un pezzo unico con le spondine leggermente più alte per l'entrata dell'acqua non farle uscire fuori incanalarla le sponde sono veramente basse piccoline quindi per renderla molto più leggera il silicone super resistente come abbiamo visto prima e si tira tira se riesce a romperlo ti do 10 euro questo non si spacca più poi volevo volevo tenerla senza nessun fermo però è impossibile quindi ho dovuto mettere questo piccolo fermo che è molto semplice da montare e il pezzo viene via tutto così e gli altri trappettini saranno fatti in questa misura adesso vediamo se la vogliamo fare leggermente più lunga però poi non lo so allora io ho provato questa qui con il video e funziona alla grande tra l'altro era una durata di lavaggio maggiore rispetto ad esempio alla prospector che più piccolina e che ha delle trappole più piccole questa qui con un flusso d'acqua maggiore lava meglio il materiale che viene messo dentro sì ma visto che nel video si vede loro fine che ha preso non si neanche in video loro fine pure male ha catturato per montarla è semplicissimo fatto così è già montata questo non si muove più è un gioiellino queste stanno tutte e due veramente molto interessante una dentro l'altra no no non sono la stessa peccato è una particolarità che a breve sicuramente adotteranno anche gli altri costruttori perché siamo sì quelli che si stanno creando coprino tutti praticamente si già già ho visto che hanno preso il silicone così però blu giusto perché non dovevamo prenderlo verde no quello che quello verde costa di più quello verde costa di più e quello blu insomma è un po più morbido rischiamo di romperlo però voglio testare anche quello blu prima di una calzata questo qui comunque è fantastico ed è appunto trappole classiche della per fare la prospezione anche qui infatti questa si chiama quindi praticamente uno una volta che ha questo questa canalina sì è uno due o anche tutti e tre tappetini in base a dove va sceglie la pezzatura al tipo di trappole esattamente questo questo è un servizio che ragazzi offriamo soltanto noi di vicino col diga perché non non perché perché siamo buoni cioè la lattea è questa noi stiamo facendo pagare queste canaline che la gente dice che costano tanto cioè credetemi che costano tanto sì costano tanto noi le facciamo pagare le canali che costano tanto ma questa qui costa 30 40 euro la diamo via questa 40 sì questa 40 tra l'altro questa qui viene messa anche nel kit questa qui viene messa nel kit in regalo a 25 euro praticamente con 49 euro abbiamo batea suicciotto e canalina aspettate che adesso li facciamo vedere noi sì perché è inutile allora naturalmente bisogna dire una cosa la ricerca dell'oro ragazzi allora noi non speculiamo sulla ricerca dell'oro è una cosa che fa bene alla salute fa bene anche lo spirito quindi è inutile fregar la gente no chiaramente io una roba del genere è come come fanno vedere tantissimi cercatori d'oro che magari fanno la colla e la mettono rossa l'altro fanno un saltino c'è sta roba qua volete sapere cosa ci costano 20 euro perché dobbiamo darla 200 questa qua ve la diamo a 40 almeno ci dovete dare qualche cosa è il lavoro naturalmente perché queste costano di più ma questa non la posso dare a 120 come danno queste qua gli altri queste quelle 200 ma anche di più di 200 però questa qui la mountain louis box sì questa è la e la e la skipper che serve per speciare il materiale direttamente ma comunque questo già lo sapete parliamo delle trappole queste trappole qua che non vedono perché sono in basso teniamola su per esempio queste trappole qua noi le chiamiamo le trappole a rombo queste trappole a rombo hanno la caratteristica di essere molto incisive molto cattive in che senso che è molto difficile da regolare la pendenza e il flusso che sono molto incisive cioè se gli diamo poca pendenza si intasano se gliene diamo troppa si lavano quindi sono molto difficili da regolare però hanno una caratteristica che anche il materiale più difficile da lavare con l'argilla viene processato in maniera molto praticamente i grumi d'argilla si spavano sì esattamente perché il flusso però sono fatte esclusivamente per le pepite sono state create cioè sono state scelte da noi per le pepite non per andare sul ticino a prendere le pagliuzze quindi ecco perché noi cambiiamo il tipo di trappole perché questo qui è una caratteristica di per trappole per pepite infatti viene chiamata mountain louis box per andare su in montagna cercare le pepite c'è qualcuno che l'adopera anche su ticino non c'è nessun problema perché la cattura ugualmente ha imparato a regolare bene esattamente quindi si impara a regolare il flusso e si cattura l'oro che si vuole a secondo appunto e qui ci ricolleghiamo al discorso dell'inizio la risposta alla domanda quali sono le trappole migliori quelle che sai usare meglio diciamo che comunque non è tanto chi sa usare meglio è la conoscenza perché queste qui perché queste piccoline per esempio io le so usare no abbiamo imparato a usare quelle piccoline ma se me ne vado in su montagna non mi servono niente quindi non è questione di sapere usare questione di riconoscere e sapere usare giusto un altro tipo di trappola è questo qui questo qui è un tipo di trappole classiche che richiama le trappole a onda però io ho voluto mettere leggermente più grandi ho voluto mettere leggermente più grandi proprio per il fatto che con quello stesso tipo di lavaggio di lavoro di caralina posso intrappolare anche anche loro fine però attenzione perché con queste io vado sia sul ticino con queste qui a onda vado sia sul ticino che sull'elvo con quelle che abbiamo fatto vedere prima a onda posso andare con queste qua vado solo sul ticino già sono troppo piccole per andare sull'elvo per esempio dove ci sono delle scaglie di 4-5 mm se vado sull'orco peggio ancora è ancora più grande quindi questo tipologia di trappole vanno bene solo per il ticino per l'adda insomma per l'adda sì dove c'è comunque non ci dimentichiamo che ci deve essere sotto il miner moss perché se non c'è sotto il miner moss siccome queste trappole sono rigide se non ci fosse il miner moss andrebbero a intasarsi perché non c'è vibrazione la vibrazione che crea invece il miner moss tende a liberarle a differenza invece delle trappole in gomma a differenza invece delle trappole in gomma che serve perché in gomma perché questa vibrazione che non viene creata dall'alluminio ma dal miner moss che sta sotto per questo viene pulito questa vibrazione tende a pulire il materiale che va ad accumularsi quindi se non c'è quella vibrazione e quella è quella quella onda quel moto turbolento quel moto turbolento parliamo proprio di un moto turbolento sì le trappole si tendono a intasarsi leggermente di più in quanto invece se sono morbide la vibrazione le tende tende a lavarle insomma da un po' raggiunto a pulire a pulire quel peso specifico attenzione a non pulire poi anche anche l'oro perché rischia anche di andare via l'oro se vuoi tenerti veramente il concentrato pulito come quelle tipo di trappole a cella che sono interessanti però bisogna stare attenti perché quel tipo di trappole a cella funziona così mi cattura quel peso specifico ma se dentro quella cella entra un peso più leggero che sarebbe loro fine lo porta via in quanto invece quando c'è il miner moss quando va dentro di lì non è una cella che gira lì a vuoto va sotto e non si muove più ok questo qui è il concetto delle trappole vogliamo tenere l'oro pulito usiamo quelle a cella ok però attenzione che quello fine doveva perdere tutto c'è da guardare dove si sta dove si sta lavorando per adoperare determinati tipo di trappole secondo il tipo di terreno secondo il tipo di acqua secondo il tipo di pepita a secondo il tipo di voglia che c'è e te andrà a scavare un'altra cosa un'altra cosa importante riguardante le trappole io spenderei due parole c'è una cosa a dire molto interessante invece che tu ancora non te l'ho detto no cosa adesso te lo dico hai visto quel movimento che io faccio così e ti lava tutto sì sai che su altre battee viene difficile da fare c'è per quale motivo perché c'ha queste righine le abbiamo lasciate apposta in questa battea per fermare loro fine perché quello lì è più difficile da tenere in alto quando si fa la pulizia loro fine tende sempre a scendere insieme alla magnetitea le matite invece queste righine che noi abbiamo lasciato appositamente ferma anche loro fine cioè loro fine anzi forse addirittura ancora di più fa trito perché fa da scalino e si ferma sono dei mini scalini infatti questo qua ma sai cosa faccio quasi quasi così non si vedrà anche da vicino poi magari va fuori fuoco sentite tanto è il microfono te lo registra dal microfono comunque questa qui appunto gliela faccio vedere sai come con le lenti macro che abbiamo messo in negozio no con le lenti macro che abbiamo messo in negozio gli faccio la ripresa da vicino e gli faccio vedere cos'è questa trama ma in realtà oltre a questa trama qui visto che qualcuno ci ha chiesto ma perché avete messo quattro trappole come funzionano le trappole che ci sono qua dentro visto che oggi parliamo di trappole queste quattro trappole qua all'interno della blue river sono trappole in un angolo acuto cosa significa acuto che non hai 90 gradi qui non avendo i 90 gradi perché abbiamo fatto questa scelta qui perché quando uno va a lavare con la sabatea e sgranare il grosso la inclina il principiante può rischiare di inclinarla di più può arrivare a inclinarla quasi a 90 gradi e può avere un angolo acuto che gli permette di lavare l'oro naturalmente uno deve sapere che prima deve scuotere bene e portare l'oro in basso sono molto efficaci queste qua io li ho notate già e poi un'altra cosa che ho notato quando si fa il lavaggio che l'abbiamo fatta apposta la misura è inutile fare 3.000 trappoline di qua 3.000 trappoline di qua che non servono assolutamente non le usi no non servono a niente cioè il discorso è semplice come quello delle canaline metto quattro trappole ma non servono un cazzo quattro non deve funzionare una allora il concetto è lo stesso anche qua se io mi devo andare a riempire la batea e poi me lo vado a lavare a sgrossare per non perdere arrivo qua praticamente mi ritrovo il materiale che ha questa che ha questa dimensione è inutile che le facevo grosse fino a qua non servono allora serve solo questo pezzo qua una volta che è sgrassato non servono neanche più quelle piccoline perché uno che sa adoperare la batea come anticamente usavano i piatti di alluminio lisci lisci e cosa servono quelle cose non servono assolutamente a niente questo sì perché devi sgrossare quindi c'è il pericolo che magari qualche cosa ti vada via anche anche se no però qui non servono assolutamente niente quelle piccole e questo l'abbiamo lasciato così con un bel gradino con un bel gradino qui che serve appunto per tenerti la parte finale è una volta e poi si fa il lavaggio con le manite con le capite il nostro sistema che già c'è che già che è il copione quello di youtube dicevo questa qua si chiama mossa vieni qua oro vieni qua vieni qua oro e poi vabbè già che ci siamo diciamolo perché la parte interna l'abbiamo fatta più grande rispetto a quelle piccoline un po più strette perché quando utilizzi un'attrezzatura ticino gold diggers ne hai di oro da lavare alla fine quindi lavorare sul piccolo è scomodo a parte gli scherzi l'abbiamo fatta un po più grande proprio per far l'effetto onda su più materiale e lavare più velocemente più materiale in effetti guarda anche il paolo ha provato e fa bella sì anch'io ce la battea sono contento anzi approfittiamo di questo video per ringraziare il paolo che veramente una brava persona ci ha seguiti anche nell'evento ci ha fatto un video spettacolare lo ringraziamo seguite anche lui perché veramente fa dei bei video è un ragazzo in gamba finita la battea una cosa importante che volevo dire a proposito del colore queste canaline che sono prototipo praticamente ancora usciranno settimana prossima se tutto va bene queste qua per queste qua usciranno per settimana prossima con i tre tappetini differenti o due adesso vediamo però se sono due o tre non importa perché andando avanti ne crederemo sempre di nuovi esatto c'era un'altra domanda che era lo scavo attenzione con che cosa dobbiamo andare a scavare ci dobbiamo scavare con la pala e non si può con la pala si si può no betta se supera un metro e ottanta forse non si può no non si può un metro e cinquanta se non si può superare il metro e cinquanta in lombardia sulla sulla pala e le attrezzature in generale un metro e sessanta del piemonte esatto sì quindi con che cosa dobbiamo andare a scavare con lo scavatore no non si può con lo scavatore non si può a meno che non è una concessione mineraria con la draga con la draga pompa con la draga non si può a meno che non è la concessione mineraria e quindi gli articoli che parlano di raccolta vietano questo tipo di attrezzature andiamo a guardare un po cosa significa la pompa di sentina tu con una pompa di sentina riusciresti a prelevare il materiale dal segreto del fiume una pompa di sentina 12 volt quindi non rientra nei mezzi meccanici per la raccolta ok fino a qua il discorso il discorso è chiaro con che cosa andiamo a raccogliere possiamo andare a raccogliere con la pala solo con quella però attenzione c'è anche un altro attrezzino che è stato inventato non so da chi forse dai compometri che noi l'abbiamo chiamato giucciometro ma in realtà è un aspiratore l'aspiratore manuale dai senza stare a fare tra poco i fighi questo è un aspiratore manuale ma a differenza di tutti gli altri aspiratori come voi sapete di cino gold digger mette sempre le abbiamo costruito uno stantuffo che si regola con a vite soltanto dalla manovella quindi lo vogliamo con più pressione abitiamo lo votiamo lo vogliamo con meno pressione e svitiamo questa è la caratteristica di questo di questo stupo adesso lo stretto un po troppo aspetta ok adesso l'ho smollato e vi faccio vedere scusa l'interno eccolo qua questo ragazzi è uno stantuffo fatto da noi un silicone che non lo distruggerete mai nell'arco di vent'anni io gli do vent'anni questo sì vent'anni di tempo non si userà mai non vi faccio vedere il sistema di come seguite perché sapete che i copioni sono dietro l'angolo quindi questa è una caratteristica di questo nuovo attrezzo che serve per andare a raccogliere il materiale dietro le crepe nelle fessure dietro i sassi e è un'alternativa alla pala diciamo esatto per i punti meno raggiungibili sì questo attrezzo verrà breve anche lui negozi insieme alle altre canaline per questa linea amatoriale chiamiamola così e verrà fornito con due sistemi di due beccucci diversi sì con due beccucci diversi uno abbastanza grosso per lavorare il terreno sulle sponde non si può mi raccomando anche se usate questo sulle sponde non si può quindi tutta la gente che vedete lavorare alle sponde e poi criticano le compete sappiate che sono intorto ok sono in fallo possono prendere anche una bella multa perché il corso del fiume non si deve cambiare le dighe non si devono fare perché cambia il corso del fiume sì questo questo strumento verrà appunto con due beccucci uno che è per dragare il fondale non risponde e l'altro invece verrà a becco d'anatra per entrare nelle fessure quindi verrà utilizzato anche come crevising ok e sarà breve nel nostro nel nostro negozio anche lui un'altra un'altra particolarità per la raccolta veramente è lui che ha voluto a mettere in negozio questo attrezzino è questa piccola lampada a uv voi direte cosa serve questa roba qua e adesso ve lo dimostriamo cosa serve questa qui è una lampada ultravioletta ma non è un ultravioletto generico è un ultravioletto con una lunghezza d'onda appositamente studiata per far fluorescenza nei rubini quindi i rubini colpiti da questa lunghezza d'onda emettono fluorescenza si vogliamo dimostrarlo lo dimostriamo si prendeciamoglielo vedere sì 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 allora interessantissimo dai mettilo qui questi sono dei bei prendiamo il cappellino non facciamo vedere la marca perché facciamo pubblicità occulta e mettiamo anche adesso lasciamo dentro così dai ok questi qua non so se adesso si vedono secondo me si è da girare la esatto allora noi come possiamo vedere ci sono sassi di fiume con all'interno una sorpresa ok questi sassi di fiume accendendo questa lampada come vediamo non colora però guardate appena arriva al rubino vedete il rubino come diventa rosso quello lì è un rubino quello è un rubino di 18 carati a forma di cuore gli altri invece non riflettono c'è un corindone c'è il quarzo c'è la gemma ci sono tantissimi materiali di vari minerali il cromo il cromo contenuto all'interno del corindone rubino emette fluorescenza su questa precisa lunghezza d'onda quindi con questo strumento noi siamo in grado di decifrare qual è il rubino senza dover andare in gioielleria piuttosto che a farcelo valutare e poi sapete come funziona no e quindi quindi per allora tornando al discorso per non tanto per la ricerca ma per riconoscere per riconoscere il rubino questo è uno strumento perfetto quindi può essere usato anche ricerca magari sì sì dopo tramonto con una passeggiata sul grattore di uve ma guarda c'è da dire anche un'altra cosa io ho fatto un esperimento ieri ho provato a fare una lente una lente un cannocchiale subacqueo in modo da andare a ricercare queste rubine ho provato a mettere questo questa pila all'interno del tubo e si vedeva molto bene anche perché poi magari dietro al sasso che non picchi il sole riusciamo a anche in pieno giorno anche in pieno giorno perché sott'acqua è un pochettino più oscuro no quindi avremmo intenzione di mettere però no adesso non ve lo diciamo è sorpreso comunque è veramente un attrezzino molto simpatico e ci risparmia molte perplessità come si dice bravo esatto se avete un dubbio questo ve li toglie esattamente tutti e si trova nella sezione accessori del sito insieme a nuovi accessori che stanno arrivando che arriveranno settimana prossima stiamo implementando il sito con varie attrezzature utili per la ricerca esatto con questo con questo abbiamo quasi finito tranne per il fatto che l'altra domanda qual era l'altra domanda era se voglio imparare se voglio imparare a cercare loro cosa posso fare a chi mi devo rivolgere a chi volete però stiamo implementando sul sito anche la sezione relativa alle uscite didattiche e soprattutto alle uscite professionali verrà offerto un servizio di ricerca a domicilio per chi vuole magari avere concessioni minerarie per chi vuole sapere se nei fiumi o nei luoghi vicino alle sue abitazioni è presente del loro sono presenti dei giacimenti sfruttabili verranno implementati questi servizi ma soprattutto verranno implementate anche le uscite didattiche anche per gruppi con guide specializzate che possono accompagnare in sicurezza anche grandi gruppi verranno implementate proprio queste queste uscite si si sono notabili tramite un comodo sistema e che aiuteranno le persone entrare in questo spettacolare mondo che non solo la ricerca orifera ma anche la scoperta del territorio della natura che ci circonda al di fuori della città si queste qui sono sono appunto le uscite che faremo in gruppo con oppure le uscite a domicilio per chi vuole cercare loro sotto casa anche nel giardino soddisfatti o rimborsati attenzione perché noi siamo e poi vogliamo però se sei soddisfatto facciamo anche le uscite a domicilio però c'è anche da dire un'altra cosa c'è anche il corso che noi facciamo il corso che si aggira sulle 480 euro che si tratta di cinque uscite è un corso avanzato si è un corso live una una sezione teorica e quattro uscite live oltre ad imparare con questi corsi è naturale che ormai internet è pieno e stra pieno di persone che fanno video che vi spiegano come trovare loro e quant'altro ma state attenti assicuratevi noi lo facciamo dal vivo non facciamo parti teoriche con un'uscita di mezz'oretta guarda il puntino noi noi facciamo vedere com'è la ricerca dalla a alla z dalla prospezione lasciamo stare i minerali e le terminologie che a noi non ci interessa assolutamente niente non siamo noi però noi siamo specializzati nella raccolta dell'oro infatti se andiamo a guardare i video non so se c'è qualcuno in italia che raccoglie più rovinone proviamo a guardare provate a guardare perché io non se li trovate mandateci ma questo grazie all'attrezzatura e anche al sapere della a saper prospettare perché io posso avere delle attrezzature che voglio ma se me ne vado sotto al ponte perché mi trovo comodo a scavare lì lì non è una concentrazione quindi bisogna imparare a trovare le concentrazioni per farla diciamo che c'è gente adesso non facciamo i nomi perché è giusto non non farli che ha contattato ticino gold diggers perché non trovava più oro in certe zone e adesso sta felicemente scavando e tirando fuori parecchi parecchie decine io direi anche di più di ma no ma io sono contento se una persona mi chiama andrea mi dai una mano a cercare io ti do una mano a cercare non è che io voglio qualche cosa naturalmente facciamo come gli Hoffman e come in gold rush prendiamo la percentuale sull'uscita è venuta meli e mi ha fatto trovare loro ma nessuno lo dice perché tutti vogliono sentirsi grandi sono tutti però se volete trovarlo da soli dovete imparare a trovarlo e soprattutto una volta che l'avete trovato a tirarlo fuori bene e in poco tempo perché gli avvoltoi arrivano ci vuole esperienza e per imparare determinate cose ci vuole esperienza non si imparano così però una buona guida è importante per poi è indispensabile indispensabile certo certo a prescindere dai minerali indicatori che facciamo tanto per mostrare le nostre il nostro sapere ma alla fine che ce ne frega a noi della 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 magnetite o del granatino a noi ci interessa l'oro e ci siamo specializzati su come trovare l'oro non come trovare le gemme noi siamo specializzati su come trovare l'oro e raccogliere l'oro le gemme io ho imparato a raccogliere il rubino per fortuna ce n'è uno bellissimo che forse è anche raro sul ticino è pieno comunque sia di rubini correndoni zaffiri c'è di tutto sul ticino veramente bellissimo a confronto agli altri fiumi siamo fortunati e che dire ancora abbiamo finito dobbiamo solo dire che ragazzi questa è la terza puntata del salottino dell'oro la quarta la vogliamo fare rispondendo ancora più domande fateci tante domande sotto questo video nei commenti su facebook iscrivetevi sul gruppo ticino gold diggers seguite sluice box italia c'è una cosa da dire che se avevamo campo in questa zona noi siamo qua in campagna praticamente se avessimo avuto campo avremmo fatto tante live avremmo fatto le domande ci sarebbero arrivate lì sullo schermo però purtroppo per il momento non abbiamo chissà magari poi un router più avanti se riusciamo a mettere la mettiamo un'antenna una parabola qualche cosa a proposito non lo diciamo mai ma qua sotto c'è una campanellina se la cliccate vi arrivano le notifiche quindi il prossimo video vi arriva via mail la notifica non ve lo perdete e iscrivetevi cavolo fateci la carità iscrivetevi no a parte gli scherzi quindi ragazzi noi stiamo continuando a fare i video perché sappiamo che vi piacciono e ci piace anche a noi farli ci piace farvi vedere le nostre avventure come si tira fuori loro però iscrivetevi però iscrivetevi porca miseria basta cliccare qua sotto tantissimi tantissimi che guardano guardano entrano controllo e poi non si iscrivono ma iscrivetevi ma iscrivetevi